Sì, abbiamo fatto una buona partita, soffrendo anche insieme, di gruppo, che è anche importante in quei momenti perché il Genoa è una bella squadra e che soprattutto in casa è sempre riuscito a mettere in difficoltà gli avversari e quindi siamo stati bravi a soffrire, a chiudere la nostra porta e a ripartire e alla fine secondo me è giusto il pareggio. Quinto gol in quattro gare di Cyril Theroux, tre consecutivi glieli hai fatti fare tu, diciamo un bel lasso. Sì, sì, sono contento per Cyril che riesce a esprimere le sue qualità che sono tantissime. Noi dobbiamo giocare comunque sempre di squadra, alla fine non importa chi fa i gol ma è importante di ottenere i risultati e ultimamente riusciamo ma dobbiamo continuare a tenere i piedi per terra e continuare a lavorare come stiamo facendo.